E' da un anno che te lo chiedo, potresti fare il Majin Bukidi che hai fatto sulla sedia da gaming l'anno scorso che ci illumina il buio e che lo vorrei acquistare per favore? Intendi questa sedia qui? Ok Allora, come avrete già capito, questo è il mitico Majin Bukidi che ti manda Fano, che creai un anno fa per customizzare la prima sedia da gaming fotoluminescente E se scorrete un po' sul mio profilo trovate anche il video Però decisi di non venderla, infatti ancora con me nel mio laboratorio Dopo di quella ne feci altre con altri personaggi, che però sono state tutte vendute all'asta Sicuramente entro breve ne vedrete delle nuove Intanto beccatevi questo perché è una figata pazzesca e meritava sicuramente di diventare un quadro fotoluminescente Che ovviamente potrete acquistare dal mio shop Ma intanto guardate qua Alexa, spegni tutto Guarda come ne è ridotto Lo trovate sul mio shop, il link è in bio, c'è il 20% di sconto per la prima settimana